In un mondo di mostri infernali, June è la sola che reagisce Contro complotti e deleni mortali, le saprà combattere male, combattere male Vai, 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 non fermarti mai Vai, 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 non fermarti mai Diavoli da non in Giun sa affrontare, e non soltanto può accettare la sfida Ti mostrerà la forza del cuore, la forza del cuore Vai, 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 non fermarti mai